Ehi tu, sì dico a te, vorresti vincere questi e tanti altri premi? Allora iscriviti subito al mio canale e segui i miei video perché al raggiungimento dei primi 250 iscritti partirei il primo dei tanti concorsi a premi che organizzerò proprio su questo canale. Allora che aspetti? Non lasciarti scappare questa bellissima possibilità, non ti costa nulla. Iscriviti al mio canale e ci vediamo dall'altra parte! Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di 7 Days to Die, sempre in compagnia di Rocky. Ciao belle! Allora, sto sistemando tutte le cose che ho preso. Io mi trovo nel deserto e da quello che vedo nel mio... Ah, devo andare a vedere le altre mappe del tesoro, sì! Questo bituminoso? L'ho preso, te l'ho portato, mi sa che ce l'ho nella moto se non ce l'hai... Sì sì, ce l'ho nella moto, ce l'ho nella moto... Ok, ok, ok... Ma ci abbiamo pure due razzi... Sì sì, vado a fare le altre mappe del tesoro... No! Raffaele, è sempre Raffaele! Leggi! No! 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 ho visto un coiote che rincorre una gallina no finalmente una cosa naturale poi vabbè la gallina è molto più veloce che sta bene i zonchi tutti qua stanno venendo la mia sti uccellaccio vieni vieni ma ero brutto le scatole ogni volta e non capisci che muoio un cervo cavolo non ho le armi il cervo nel deserto vabbè e vabbè quelli vagano e vagano ma proprio non mangia questo nel deserto siiii no madonna non mi dire che l'ha messo nel canyon e per cacchio stai adesso scus a dove cavolo sta a dove cavolo sta ah si sta facendo notte come disse il grande Renato un coniglio nel deserto oh ecco qui si trova il tesoro intanto do un'occhiata a queste macchinuzze chi è che sta qui sento dei passi ah no è la moto ah no è quello lì vieni vieni ah la caposala ospedale a dersville il problema è che quando io mi metterò a scavare a parte che mi sa che non c'ho la benzina no devo scrappare queste macchine madonna mi sono salvato a tempo mi sono salvato aveva il poliziotto che stava esplodendo visore oh col visore è tutto un altro mondo si ma figlio mio ma è una cosa incredibile o c'hai seto o c'hai fame eh c'è pure un coiuto dove sta? oh vediamo c'ho l'acqua nella mura non so c'ho l'acqua sposa ah la benzina sta qua faccia di cacchia non sposa ma qua indicazione? non so 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 Ah, che c'è! non è deserto a scavare per il tesoro però fammi uccidere prima questi zombie che si sono avvicinati ah ecco la donna Imm che altro c'è ok posso vedere che cos'è un coniglio che si sta uccidendo da solo con i kattus dai altre munizioni dai vediamo vediamo otto parti di pistola tra le altre munizioni perché ce ne sono anche un sacco di altre munizioni non ho visto bene se c'erano soldi perché sta questa deficiente brava ora fammi vedere bene 1300 banconote che saranno 1500 oggettoni un sacco di munizioni no vabbè proprio munizioni di meno punto di proiettile assai chi altro c'è qui ah lo vedo quel ciccione vieni qui non mi hai visto ok vediamo questa mappa del tesoro vediamo se mi porta di nuovo qui ah no in un altro posto un lupo mamma quando è grosso no no non lo prendo bene o male che ho l'abilità contadino dovrei prendere tre tre cose di frutta non ho due adesso tra me ne ho da una gallina voglia ma una gallina che mi serve adesso vediamo come un commento che c'è la fame per questo Cioè, stiamo benissimo Punte di proiettivo Chi è? Una gallina è morta È morta da sola Come dire che sta litigando con il lupo Il coyote, lo vedi? Il coyote con una bastonata muore Il lupo non muore con una bastonata Non è che l'ospedale sopra sopra? No, non siamo andati No, vado io, dai Il tesoro sta nei pressi di dove stai tu Cioè, quella è la direzione Perché poi Oh, sticca Si ricambia Eh, fino a qui si sente la moto La moto vivo? Sì, sì, la moto tua Oh, sti gallina hanno rotto Ah, 900 Ma ho un chilometro per trovare il tesoro Cioè, trovavo molte più munizioni prima Che non avevo le skills Com'è il fatto? Che al contrario Ventiquattresimo giorno Eh, insomma Quasi un mese è passato Sono vicino alle cascate Mamma mia Quando sono brutto Cioè, l'acqua invece di scendere Sale Dalla cascata Un cane, non spedano Che al cazzo ci fa? Cerca le ox Perché io nella pompa di benzina Cioè, ci potevo Ci potevo trovare la benzina No, no, non ci ho trovato niente I contrari Sono un cretino Perché? Oh, devo riscendere Perché stavo pieno Mi devo svolgere No, lo vedete L'uomo masca Vieni, vieni Oh, è sempre l'uomo masca Questo prima era lo spider zone Se verrà più bello questo Come spider zone Che cosa c'è adesso Mezzo chilometro Maledessi Maledessi Oh, donna Ima È mai rato le... Oh, oh, oh Oh, oh Degli zombie che saltano Che zombano Deh È sempre la gallina E stavolta ti ho ucciso Così La smè No, non l'ho uccisa La nera foresta Sì Cerro No, non li 님� ho trovato un terrozzo ho trovato 5 parlanti 5 sensori di movimento 10 palle con cavi con innesco e 10 relais altre due mappe ma che stai nel negozio? l'ospedale cacchio quanto è grosso questo lupo ma tu quando è grosso è grosso come la moto adesso mi toccherà ucciderlo perchè mi ha fatto trovare il tuo rex stavolta scusa vediamo non riesco a fare il tesoro l'abilità del tesoro cacciatore di tesori percezione settimo livello trovo il 30% di oggetti nel tesoro sepolto speriamo però il 30% di oggetti me ne fai trovare di meno scusi a posto ah si lo posso fare ok ragazzi se vi è piaciuta questa puntata mettete mi piace e iscrivetevi un saluto da me da rockin ciao ciao chau 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 Grazie a tutti.